buonasera benvenuti al circolo di lettori come avrete capito come avrete letto questa sera presentiamo un libro molto importante dieci anni di futuro interviste della luna insomma in questo periodo parlare di futuro è quanto mai impegnativo ma soprattutto è sfidante quindi è bene iniziare a parlare di un tema come questo ne parliamo con i nostri ospiti da dalla mia destra in qua mauro berruto riccardo recalchi francesco ronchi walter rolfo e paola alla mano poi dirò i titoli le qualifiche di tutti man mano che che passerò il microfono iniziamo subito da da francesco ronchi che il fondatore il presidente di sinestesia la società che ha avuto l'idea di creare questo questo libro e di interrogare una serie di di narratori di testimoni su questo tema così così importante ben 17 persone che in qualche modo attraverso la loro testimonianza e racconta della loro vita e le loro risposte a questo quesito hanno anche raccontato dieci anni di di sinestesia magari prima di parlare del libro raccontiamo anche in breve cos'è sinestesia non lo diamo per scontato anche se molti lo sanno già certamente grazie fabrizio allora sinestesia è una digital experience agency che è una definizione che ci siamo dati sostanzialmente siamo una società torinese con forte radice qua sul territorio che si occupa di digitale di quindi di sviluppo di software facciamo app siti di commerce facciamo comunicazione comunicazione digitale ma non solo ci occupiamo tanto di innovazione organizziamo degli eventi anche sul territorio abbastanza importanti sempre nell'ambito tecnologico e digitale quindi abbiamo tante attività siamo nati appunto dieci anni fa e e abbiamo voluto con diciamo questa iniziativa che è nata così un po senza pretese all'inizio festeggiare questi dieci anni infatti le interviste all'inizio dovevano essere dieci poi ci siamo fatti un po prendere la mano e sono diventate 17 come al solito e abbiamo voluto raccontare i nostri il nostro passato pensando e però ai prossimi dieci anni e l'abbiamo voluto fare prendendo un po queste parole chiave che ci contraddistinguono che sono sia però le legate a quello che facciamo dal punto di vista più tecnico ma anche soprattutto tanti di quelli che sono i valori che noi cerchiamo di portare avanti nel nostro modo di fare impresa di fare gli imprenditori e quindi questi appunto questi queste interviste sono poi tutte un po finite con la domanda ma cosa vedi nei prossimi dieci anni quindi quali saranno quali sarà il futuro quello che ci voleva proiettare un po un po avanti quindi questo è stato è stato il progetto è nato appunto con con questi video con queste con queste interviste che poi sono diventate il libro che molti di voi hanno in questo momento in mano infatti il libro è stato concepito un anno fa intorno a marzo esattamente quando cadeva l'anniversario dei dieci anni di sinestesia però immagino che sia anche il frutto di tutta una serie di riflessioni che ci siamo portati dietro durante il periodo pandemico nel senso durante questo periodo di fermo di stop tanti di noi a diverso titolo a vero livello sono messi a immaginare il durante il dopo e poi anche il futuro proprio a causa di questa pausa forzata di di riflessione ma da tutte queste interviste adesso non non come dire spoileriamo troppo però qual è il sentimento che esce fuori alla fine allora credo che sia uscito fuori tanto ottimismo che nasceva secondo me anche tanto dal fatto che quando sono state effettivamente fatte fatte le interviste stavamo uscendo stavamo comunque in una situazione in quella pandemia si stava un po' ritirando no e c'era e c'era e c'è secondo me ancora una un grande ottimismo verso quello che poi potrebbe essere il futuro quello che sarebbe successo nel post nel post pandemico e è vero che poi oggi la situazione è un po' diversa no quando queste queste cose sono nate queste interviste sono nate la situazione geopolitica era un po' di differente quindi sarebbe chissà interessante capire se oggi questo stesso ottimismo sarebbe sempre ancora condiviso oppure no però credo che il sentimento se dovesse decidere questo possiamo dire che il tuo partner in crime rispetto alla creazione di questo libro è riccardo ricalchi il tuo socio nonché ceo di senestesia poi non so mai cosa fa più figo se dire ceo si io seo ditemi voi cosa meglio anche perché abbiamo un altro seo ceo si io qua vicino a me riccardo tu poi immaterialmente anche realizzato le interviste che tra l'altro sono a disposizione online per chi poi le vado a vedere c'è anche un podcast quindi si può anche ascoltare che è una cosa sempre molto molto utile prima abbiamo detto che ci sono dieci parole chiave dieci temi legati all'innovazione che vi hanno guidato quali sono questi questi temi che appunto hanno un po ispirato la costruzione del libro adesso mi metti in difficoltà perché non me li ricordarsene tutte però diciamo che sono temi legati al mondo in generale quindi a partire dalla cultura l'innovazione le tecnologie disruptive diciamo che abbiamo toccato diversi temi che sono poi quelli che vediamo come il nostro futuro le tecnologie innovative l'intelligenza artificiale e in generale le persone che sono venute da noi a parlare di questi temi hanno tutte contribuito in maniera determinante a farci avere un'ulteriore visione di quello che poi noi ogni giorno cerchiamo di di portare nel nostro non solo nel nostro business ci tengo a dire una cosa che è successa nel mentre quindi da quando abbiamo insomma cominciato a fare le interviste per questo libro che sinestesia è diventato una società benefit e questa è per noi una cosa estremamente importante perché dice molto di come noi vogliamo approcciare il nostro modo di lavorare e soprattutto il nostro futuro quindi diventare una società benefit è stato per noi un ulteriore impegno rispetto ai nostri le persone che lavorano con noi i nostri dipendenti i nostri collaboratori e tutto l'ecosistema che insomma con fatica abbiamo creato e che in questo libro si sente tantissimo rispetto a quello che dicevi prima mi riaggancio solo proprio un secondo perché oggi mi sono andato a rileggere le interviste perché dopo un po di tempo non me le ricordavo più devo essere sincero e alla domanda di prima dal momento della pandemia c'è un passaggio dell'intervista proprio di Mauro in cui diceva che questa è stata anche una grande occasione nel senso che ovviamente senza andare a a fare cioè ci sono state tante morti quindi insomma è stato un momento veramente difficile però diciamo che ci ha messo di fronte al futuro in maniera estremamente differente e ci ha dato l'occasione di rivedere le priorità e di capire come affrontare il nostro futuro magari in maniera più etica più sostenibile e forse pensando a tutti quei valori che ogni tanto presi dal quotidiano ci si dimentica quindi tutti questi passaggi sono fondamentali e si sentono proprio nelle interviste poi devo dire che sul palco ci sono tre persone che ho intervistato io quindi devo dire fra che c'è questo e quindi è andando a rileggermi poi oggi tutta una serie di passaggi ho notato che effettivamente le parole che poi abbiamo scelto sono state forse limitanti rispetto ai contenuti perché ognuno di loro ha portato veramente una testimonianza differente ma molto importante rispetto alle esperienze professionali di vita è stato proprio bello io mi sono anche divertito molto ci siamo fatti un sacco di risate durante anche le pause e ci siamo molto divertiti però questo libro è stato per noi importante perché è stato un po come mettere a terra quelle che erano i nostri valori le nostre intenzioni proprio guardando a domani mi soffermi ancora un attimo su questo discorso della società benefit perché comunque questa è una nuova frontiera dell'imprenditoria che si sta muovendo nel mondo e che finalmente sta arrivando anche in italia e si collega poi alla domanda successiva è un altro tema di cui si parla molto che quella della solidarietà però prima di arrivarci volevo chiedere esattamente cosa vuol dire diventare una società benefit rispetto a quello che eravate prima cosa comporta e quali sono poi i risultati che porta questo tipo di società non soltanto dal punto di vista del business ma anche della ricaduta sociale guarda assolutamente ma allora intanto spieghiamo che cos'è una società benefit la società benefit è una società diciamo può essere un srl o un spi insomma una società normalissima che aggiunge al suo statuto degli obiettivi di tipo sociale di tipo etico di tipo legato all'ambiente quindi inserisce una serie di parametri che esonano da quelli economici tra gli obiettivi che vuole perseguire e lo inserisce direttamente proprio nello statuto in maniera pubblica e ogni anno insieme a quello che poi è il bilancio economico che porta avanti fa anche un report di impatto che a sua volta viene viene reso pubblico in cui racconta e spiega come ha perseguito questi obiettivi in che modo e che obiettivi effettivamente ha realizzato allora questo per noi è stato davvero un passo importante perché come dicevo prima tutti i vari valori di cui raccontavamo e raccontiamo anche nel libro ci appartengono molto nel nostro modo di fare impresa e quindi questa è una cosa che noi abbiamo fatto specie anche prima di diventare società benefit nei dieci anni precedenti e questo l'abbiamo fatto appunto con un'attenzione alle persone con un'attenzione all'ambiente di lavoro all'ambiente in generale scrivendo un codice etico quindi avendo tutta una serie di caratteristiche oggi abbiamo voluto ratificarlo con il passaggio della società benefit e stiamo facendo anche tutto un percorso di certificazione ulteriore che si chiama b corp che è un altro movimento internazionale che che sta andando avanti in cui si vanno a sostanzialmente poi ad aggiungere a tutta una serie di altri parametri a questo e questo è un fatto questo è una diciamo è una è una cosa che sta succedendo sempre più spesso nelle società tradizionali che si convertono che aggiungono questo tipo di obiettivi perché effettivamente ci sono anche dei vantaggi oltre diciamo a quelli etici oltre a quelli che appunto derivano da questi obiettivi raggiunti anche dei vantaggi economici perché le società che fanno questo tipo di passaggio funzionano meglio sono più risultano poi essere più stabili attraggono più talenti fatturano di più ci sono veramente degli studi che lo raccontano sì 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 non c'è assolutamente sì la domanda era se cambia qualcosa a livello di tasse no non cambia niente è giusto no no è giusto assolutamente c'è vabbè facile così facile no è una cosa che si fa diciamo perché ci si crede in sostanza però effettivamente poi ci sono dei vantaggi che sono indiretti quindi dei vantaggi dovuti anche appunto alla percezione positiva che si ottiene insomma nel su anche sul mercato e in alcuni casi questo sta diventando anche quasi necessario perché quando le aziende fanno questo passaggio alcune grandi aziende fanno questo tipo di passaggio poi richiedono che i propri fornitori a loro volta aderiscano a questo genere di certificazione quindi diventerà si spera un modo per rendere virtuose le aziende insomma rendere sempre più virtuoso dell'ecosistema si poi appunto sono molte statistiche che anche introdurre introdurre i temi della diversity nelle aziende serve a produrre di più a migliorare appunto l'ambiente interno e così via insomma i benefici sono stati studiati insomma bisognerebbe semplicemente avere più presenti specialmente per tutte le altre imprese che ancora sono un po ferme a vecchi modelli però ci agganciamo al discorso della solidarietà che sottende poi questa operazione del libro perché bisogna ricordarlo quindi anche il motivo per cui è importante acquistare questo libro che i proventi del libro finiscono per una buona causa assolutamente se tutti i proventi sono destinati sostanzialmente in beneficenza all'ospedale regina margherita e le donne profughi afghane in queste sono le due organizzazioni sostanzialmente che abbiamo scelto al tempo come obiettivo come destinatari di tutto il di tutto il ricavato prima di dare la parola a tre dei 17 intervistati del del libro vi chiedo ancora un vostro pensiero sul grande tema che poi è al centro anche di queste interviste anche di questa operazione ovvero il tema dell'innovazione che il vostro pane quotidiano di che tipo di innovazione si parla in questo libro e qual è l'innovazione per sinestesia che ci deve aspettare nel futuro del mondo digitale vuoi rispondere tu ma allora ci sono diversi temi legati all'innovazione in senso generale noi cerchiamo di stare ovviamente al passo con quello che ci accade intorno quindi lavoriamo moltissimo con le start up cerchiamo di essere molto presenti anche se fare network ultimamente è diventato difficile perché anche gli eventi sono stati parecchio online molto online direi e però in generale i temi più importanti sono quelli legati all'intelligenza artificiale a tutto il metaverso che va molto di moda ma nella realtà dal punto di vista tecnico sto dicendo ovviamente e tecnologico tutto il mondo degli nft tutto il mondo delle criptovalute che stanno assumendo delle forme differenti e che in qualche modo i grandi big stanno già sposando basta pensare a facebook che ha cambiato addirittura nome quindi oggi si chiama meta quindi sono temi sui quali il futuro dal punto di vista della tecnologia sta convergendo in maniera sempre più importante e lato nostro cerchiamo ovviamente di stare dietro il più possibile a questi temi di fatti abbiamo una serie di attività e nuove start up in procinto di di essere o create odio siamo molto vicini a questo proprio perché pensiamo che poi l'innovazione ovviamente tecnologica che un po il nostro pane sia ovviamente il punto d'arrivo per guardare al futuro quindi innovare poi è una parola che vuol dire tantissime cose dicevamo prima l'innovazione con la pandemia è stata un'innovazione globale anche dal punto di vista societario quindi con lo smart working tutta la il cambio che noi abbiamo dovuto affrontare in termini di come avere i nostri dipendenti felici e produttivi in una situazione veramente differente dalla precedente quindi per noi è stato un momento di grande cambiamento sul quale l'innovazione è stato a dire la verità investire su quello che ci stava accadendo prenderne atto e cercare di superarlo con tutti i processi più innovativi che abbiamo trovato nella nostra sul nostro cammino insomma si voleva aggiungere ancora una una cosa su questo allora nel percorso dell'innovazione innovazione la tecnologia deve migliorare la vita delle persone quindi l'obiettivo poi finale è sempre quello di avere anche un'attenzione a quello che poi è l'impatto che le tecnologie e il digitale ha un impatto enorme lo sappiamo bene sulla vita di tutti quanti che sia un impatto positivo quindi una delle cose che stiamo anche portando avanti delle delle attività che stanno all'interno del discorso che facevamo prima nella società benefit è anche quella che viene chiamata corporate digital responsibility cioè la responsabilità digitale aziendale che significa fare anche attenzione a come vengono utilizzati i dati a come vengono viene gestita la privacy degli utenti a tutta una serie di a evitare quelle che vengono chiamate le direct pattern cioè queste modalità un po al limite tra l'inganno che a volte ci troviamo a vedere quando non so comprano il letto del treno e cercano di farci comprare anche l'upgrade anche se non lo vogliamo o non so per disiscriversi da amazon devi fare 8 mila passaggi quelle si chiamano dark pattern quindi l'attenzione nell'innovazione deve anche andare a fare in modo che l'innovazione sia gestita nel modo migliore possibile per poi non avere delle ricadute negative verso le persone intelligenza artificiale è un altro dei mega temi in cui ci sono tante discussioni su come deve essere regolamentata gestita eccetera quindi questo è un altro degli argomenti su cui lavoriamo nell'ambito innovativo a proposito di startup di innovazione di nuove tecnologie io inizierei a dare la parola a uno dei tre dei 17 appunto intervistati nel libro quindi a paola alla mano che è ceo di waterview e anche ingegnere ambientale dico bene dici bene che ha sviluppato appunto questa questa startup che ha a che fare con i fenomeni climatici ci vuoi raccontare meglio da dove è nata l'idea di questa startup innovativa ci provo allora innanzitutto grazie dell'invito veramente un piacere essere qua con sinestesia perché una realtà che porta positività in tutto quello che fa quindi davvero un piacere lavorare e stare con loro waterview è una società non più startup perché siamo già un po più vecchiotti ma quasi che nasce in accademia quindi nasce dalla ricerca scientifica con l'obiettivo di avere un impatto positivo sulla sicurezza delle persone dei territori di fronte a quello che è una grande sfida dell'umanità che è il cambiamento climatico che ormai è davanti agli occhi di tutti ma che sette anni fa quando è nata waterview non era così ancora riconosciuto non era ancora così mainstream e nasce con l'obiettivo di dare nelle mani di chi gestisce i territori le infrastrutture i contesti in cui noi viviamo operiamo produciamo dare uno strumento per adattarsi a quello che sta accadendo prima ancora di risolvere quello che sta accadendo prima ancora di mitigare quello che sta accadendo a livello climatico adattarsi e portare una maggior sicurezza per i cittadini per i lavoratori per i gestori delle infrastrutture quindi waterview nasce come un'idea tecnologica che è quella di oddio qua concedetemi un ottimo la digressione che è quella di trasformare le tradizionali telecamere di videosorveglianza quelle che ci sono nelle nostre città lungo le nostre strade un po' ovunque in sensori capaci di accorgersi grazie all'intelligenza artificiale di quello che sta accadendo di fronte al dispositivo quindi in termini climatici capire se sta avvenendo un fenomeno di precipitazione estremo un allagamento, un incendio, se c'è qualcosa che sta in qualche modo impattando sul sito monitorato grazie a questo monitoraggio che diventa quindi molto capillare, molto diffuso perché le telecamere sono ovunque è dare nelle mani di chi per esempio gestisce una tratta autostradale uno strumento per decidere se e come gestire nel momento del fenomeno climatico quella tratta per mettere in sicurezza l'utenza quindi banalmente se c'è una nevicata in corso, temperature basse e rischio di ghiaccio sulla strada dare un'allerta all'automobilista che magari non è proprio il classico pannello messaggio variabile che ce n'è uno in chilometro che dice sempre la stessa roba ma magari un pochettino più calato nella realtà e attendere magari avvertire direttamente l'automobilista sulla sua automobile affinché adotti dei comportamenti adeguati quindi Waterview è diciamo uno strumento di artificial intelligence che però si dedica alla sicurezza del cittadino quindi insomma sfrutta in modo positivo quello che è un normale sistema di sorveglianza sì esattamente aggiunge un po' di intelligenza a quello che altrimenti è di fatto un controllo del traffico delle targhe eccetera eccetera in realtà poi per quanto riguarda la tua intervista nel libro tu poi sei stata chiamata a parlare delle disruptive technologies cerchiamo di spiegare questo termine che in realtà poi indica il fatto di tecnologie in grado di cambiare il paradigma cioè di fare veramente la differenza al giorno d'oggi sì sono tecnologie che un po' danno uno strappo uno standard si allontano da quello che è in qualche modo il modo di operare consolidato, certificato in cui troviamo anche confidenza dando un po' uno strappo tecnologico che poi possa diventare un nuovo standard senza voler dire di aver cambiato con Waterview il modo di conoscere e misurare il clima ma certamente un po' l'ambizione nostra è stata questa e siamo un po' una declinazione di queste disruptive technologies quindi se ad oggi tutto quello che si fa nei confronti della conoscenza se misura e gestione dei fenomeni climatici viene fatto con la classica strumentazione meteorologica che si pianta su un palo con un plinto con un sensore da oggi in avanti può essere fatto anche con uno strumento non dedicato che viene adattato per fare anche tante altre cose con una sorta di economia circolare dell'informazione che quindi riutilizza dati che vengono adibiti anche ad altri usi e che soprattutto scende a scale più compatibili con la digitalizzazione del mondo quindi a scale che sono più aderenti alla nostra bisogno di conoscenza della realtà perché ora una palina meteorologica ogni 20, 30, 50 km quadrati oggi diciamocelo non è più aderente alla nostra granularità alla nostra bisogno di conoscenza per cui diamo uno strap in questo senso più in generale una disruptive technologies è una cosa che strappa un pochettino a uno standard e cerca di fare un balzo in avanti non è sempre facile fare questi balzi però se uno sopravvive ne vale la pena tu prima hai detto che per la storia che ora mai avete sviluppato non siete più una start up in senso classico diciamo perché abbiamo sette anni ecco quindi insomma siete diventati grandi celli ma quanto è difficile oggi creare un'impresa digitale? forse oggi un po' meno di quando abbiamo iniziato noi è sicuramente una cosa e forse quando abbiamo iniziato noi un po' meno di quando abbiamo iniziato sinestesia quindi è sempre un pochettino più condivisa la conoscenza di come si possa fare e certamente non è facile all'inizio è sempre un po' un percorso da evangelisti una sorta di evangelizzazione del mondo in cui si porta un po' questo messaggio di innovazione si trovano tante facce con gli occhi sgranati ed è un pochettino complicato essere presi sul serio anche perché tipicamente ci si va con dei volti molto giovani senza le rughe in Italia non è più così facile andare under 40 a essere creduti forse è diverso dal resto del mondo quindi no, non è facile non sto a dire che magari da donna è ancora un po' meno facile ma questo è uno stereotipo che non vogliamo portare in questa sede non è facile però ne vale la pena nella tua intervista poi affronti anche un altro tema molto attuale che riguarda il tema degli STEM e delle donne quindi delle conoscenze scientifiche legate al mondo femminile di quanto comunque tu nella tua esperienza riscontri il fatto che nonostante si operi in un campo che è quello dell'innovazione poi di fatto ci si abbia a che fare comunque con un mondo a predominanza maschile come mai c'è ancora questo assurdo in un mondo che invece dovrebbe portare innovazione non soltanto tecnologica ma anche dal punto di vista di cambiare gli stereotipi e la cultura in generale questa è una gran domanda sicuramente immagino che questo sia un fenomeno più specifico dell'Italia probabilmente non so se nel resto del mondo è un po' diverso non lo so forse un po' ma non necessariamente è così grande non è così grande la differenza allora boh e sicuramente portare un cambiamento nel mondo delle STEM richiede anni cioè passa una generazione prima che si inneschi un cambiamento e si trovino negli ambienti di lavoro le nuove generazioni magari influenzate da un meccanismo di comunicazione diverso in questo settore io credo che per la generazione che un pochettino io rappresento indubbiamente uno dei descrittori di questo fenomeno sta nel fatto che io ho studiato ingegneria beh il 99% dei docenti è un uomo che non discrimina che è super magari estremamente fair estremamente bilanciato tuttavia l'esempio che si trova dall'altra parte è un esempio maschile e questo può essere solo uno dei tanti elementi che porta magari a scoraggiare un pochettino anche all'identificazione di fronte a questo tipo di di esempi di modelli uno dei ce ne sono probabilmente molti altri di elementi in primis appunto la cultura da cui da cui deriviamo che vabbè banalmente si regalano in lego i maschietti però senza arrivare a questo tipo di ragionamenti davvero studiare ingegneria vuol dire confrontarsi con una un 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 contesto maschile con metri di giudizio maschili seppur positivi ma maschili per cui una donna può esserne scoraggiata ora per per osmosi per vicinanza da un ingegnere ambientale passerei a un altro ingegnere ovvero a Walter Rolfo che è ingegnere professore universitario conduttore produttore televisivo tantissime cose nonché fondatore e presidente di Master of Magic che tra l'altro è stato da poco al TED Global giusto di cui ci raccontavi un po' alcuni personaggi che fanno parte diciamo della cronaca internazionale da Elon Musk ai Bill Gates che insomma hanno raccontato tante verità immagino verità le loro le loro verità il tema che in qualche modo ti è stato affidato all'interno del del libro è quello della centralità delle persone e dell'inclusione sociale e tu in particolar modo riprendi un po' quello che è un filo conduttore che ho visto che ritorna in molte interviste che è quello del limite cioè del fatto che comunque alla fine niente è impossibile e il limite è tutto mentale e poi aggiungi una frase che mi ha colpito molto perché la dici spesso che devi uccidere delle parti di te per costruirne delle altre la puoi spiegare meglio? un sacco di domande insieme innanzitutto buonasera a tutti grazie di essere qui e grazie di aver preferito noi alla partita quasi tutti allora sì io sono lucidamente schizofrenico perché siamo in tanti io sono nato mago iniziato a fare mago a nove anni e mezzo poi mi sono involuto e voluto ingegnere dipende dai punti di vista poi come? mago mago prestigiatore iniziato a perseguire l'arte magica a nove anni e mezzo che è un'arte straordinaria perché ti insegna a pensare l'arte magica è per eccellenza la forma migliore di problem solving perché se ci pensate un prestigiatore passa l'ora davanti allo specchio cercando di risolvere problemi impossibili e inutili perché solitamente si risolvono problemi che sono utili invece noi far spiegare una moneta non è così utile però ti insegna a pensare e poi ho anche capito che la mia schizofrenia in realtà era meno evidente di quanto pensassi perché magia e ingegneria sono molto più simili di quanto uno non possa credere il primo giorno di analisi matematica che ha frequentato il Politecnico lo sa io ebbe il piacere di incontrare la famigerata professoressa Scarafiotti vedo non sono tutti quanti e lei disse cercando di scoraggiarci per mandarci via dal Politecnico chi non ha mai smontato una macchinina si alza e se ne vada perché questa facoltà non fa per voi e alla fine c'è una sonanza fantastica perché il mago smonta le macchinine per capire il trucco e l'ingegnere per capire il segreto per capire il funzionamento quindi di per sé entrambi smontano macchinine credo che nulla sia impossibile ed è un dono che impari facendo il mago perché quando sei bambino tu ti metti davanti allo specchio nascondi una moneta in mano e cerchi di farla sparire e passano i minuti passano i giorni passano le settimane e se li conti anche i secondi finché finalmente la moneta sparisce e quando una moneta sparisce il dono più grande che ricevi non è il trucco per far sparire una moneta chi se ne frega impari però che se insisti 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 non ti arrendi mai puoi realizzare l'impossibile ecco credo sinceramente che nulla sia impossibile perché la vita mi ha dato tante dimostrazioni nel corso del tempo ovvio l'impossibile non esiste ma non è gratis cioè devi farti il mazzo non è che capita per caso chi realizza l'impossibile solitamente si fa un un gran lavoro e uccide a me stesso nel senso che nel corso della vita io ho cambiato tante vite perché sono diventato ingegnere poi cioè nato mago poi diventato ingegnere poi sono andato a Roma ho lavorato in Rai per quasi 15 anni sono diventato dirigente in Rai facevo un sacco di trasmissioni bellissime tra cui abbiamo fatto Voyager Futura City Arcane inchieste sulla magia quindi tantissime trasmissioni e poi ho mollato mi sono licenziato che è stato un peccato di arroganza giovanile perché mi avevano passato da fare documentare a fare reality show ho detto no io sono destinato a qualche cosa in più che è un reality show e però credo la mia frase vuol dire che secondo me crescere con saggezza vuol dire rendersi conto che c'è un'età per tutto c'è un'età per ogni cosa chi vive male secondo me e chi vive l'età sbagliata l'età sbagliata è il momento sbagliato un calciatore che ha 30 anni 35 a parte Ronaldo ha 37 anni voglia giocare in Serie A e soffra se non riesce a giocare non ha capito bene il momento in cui sta vivendo ho fatto l'artista per tanti anni e secondo me c'è un'età per scendere dal palco c'è un'età per crescere c'è un'età per diventare grandi c'è un'età per fare famiglia c'è un'età per mettere la testa a posto e quindi io credo che si debba avere il coraggio di uccidere il tuo se precedente per poter costruire il tuo se migliore di adesso se vivi una discrasia profonda tra chi sei e chi dovresti essere non sei felice e quindi capire quando è il momento di spegnere il momento della vita per esempio voi siete passati a start up ad azienda se loro si continuasse a comportare come se fosse una start up non andrebbe bene loro stanno crescendo e quindi hanno avuto il coraggio di fare un alto salto continuare a tenere ancorati i piedi nel passato per la paura di crescere non ti permette di costruire un buon futuro quindi questa è una riflessione che torna a fagiolo visto insomma il tema del libro però come ti avevo detto prima mi ha colpito molto nella tua intervista sempre ritornando sul concetto di inclusione quando tu racconti quando è accaduto secondo te il punto di vista del punto di svolta rispetto al concetto di inclusione ovvero con la scoperta della luna visto che insomma parliamo di interviste della luna è una storia quanto mai pertinente sì è affascinante quando nel 69 Armstrong pose il primo piede sulla luna in realtà cambiavano tre cose fondamentalmente nella mente degli uomini cioè è vero che lui fece il famoso grande passo per l'umanità ma questo comportò tre cambiamenti epocali nel modo di pensare il primo cambiamento fu proprio a ribaltare il concetto stesso di impossibile perché per millenni la luna era un posto inarrivabile era il posto dove non si poteva andare e addirittura ovviamente tutti i sognatori dicevano è andare sulla luna quando l'uomo arrivò sulla luna per noi sulla terra cambiò il modo di vedere l'impossibile di fatti noi adesso non pensiamo più se ci fate caso che qualche cosa sia impossibile ma diciamo quando capiterà nessuno di noi pensa che noi andremo su Marte prima o poi andremo su Marte si troverà una pillola che ci faccia vivere per sempre forse sì magari noi non lo vedremo ma non si dice più impossibile ma si istituisce con quando si farà e la luna ha comportato questo passaggio da non si può fare a quando si farà il secondo grande punto è legato alla sostenibilità quando Armstrong tornò e fu il primo uomo ad avere un overview cioè vedere la terra da un alto punto di vista disse dall'alto la terra sembra una piccolissima barca in mezzo a un oceano infinito e quando si è su quella barca nessuno può scendere nessuno può salire non puoi buttare via delle cose non puoi prendere delle nuove cose quindi la terra è fatta di persone di risorse di materiali di minerali di vita che non possiamo buttare via e non possiamo imbarcarne di nuove quindi dobbiamo iniziare a dare la cura del pianeta e di fatti da lì in Australia dopo pochi mesi nacquono i primi movimenti ambientalisti e il terzo grande passaggio fu quello legato alla diversity e all'inclusione cioè gli uomini iniziano a pensare ma perdi in cibacco e porca paletta io ho esclamazioni importanti noi uomini siamo andati sulla luna quindi abbiamo fatto qualcosa di così grande così gigantesco così impossibile siamo in grado di andare sulla luna e sulla terra ci sono delle persone solo perché hanno la pelle di colore diverso che sono costrette a sedersi al fondo di un pullman non possono stare davanti se addirittura una persona di colore tocca un bianco viene picchiato ha diritto di essere picchiato oppure nelle scuole bambini che hanno gli stessi gli stessi occhi gli stessi sogni ma colore della pelle diversa devono stare seduti su banchi davanti e dietro in classi diverse non è possibile noi siamo qualche cosa di più di questo e quindi da lì i movimenti per la liberazione e per la libertà delle persone di colore che già avevano comunque avevano iniziato l'attività hanno preso ancora più forza perché l'uomo si è reso conto che noi siamo più di questo ecco la luna è stata importante per tanti motivi ma soprattutto perché ha cambiato tre punti di vista fondamentali credere che nulla sia impossibile credere che la terra vada salvata e credere che siamo tutti uguali tutti questi concetti questi pensieri hanno a che fare con la realizzazione di sé e in una parola con la felicità tu sei definito anche ingegnere della felicità come si può rendere la felicità una materia ingegneristica cioè come si può fare dell'ingegneria la felicità una materia da ingegnere mi piacciono gli ossimori allora si fa perché insegno all'università e abbiamo abbiamo perché abbiamo mi piace sempre usare il noi un corso che si intitola ingegneria della felicità dove stiamo è una challenge dove stiamo misurando cercando di sviluppare degli algoritmi e quindi un'app che permetta di misurare la felicità percepita in modo oggettivo cosa vuol dire? vuol dire che attualmente la felicità viene rilevata con sondaggi quindi io ti chiedo come stai come non stai come ti senti come non va però c'è una ricerca interessante questo può essere utile a prescindere dal concetto ingegnere della felicità dell'università di Harvard di Steve Archer io sono ingegnere quindi per me tutto quello che riguarda la felicità che è qualcosa nella quale credo profondamente deve avere sostanziali e forti basi scientifiche e questa ricerca ha dimostrato in modo inoppugnabile che non è il successo che porta ad essere felici ma è la felicità che porta ad avere successo cioè quindi un approccio positivo alla vita fa sì che voi abbiate più successo di fatti è stato dimostrato tra i mille numeri per esempio che un medico che abbia un approccio positivo alla vita ha il 19% di possibilità di dare delle diagnosi più corrette quindi cosa vuol dire? che se io lavoro sul mio stato d'animo posso avere delle ricadute importanti uno studente ottimista positivo io parlo di felicità perché è una bella parola però che ha un approccio positivo alla vita è più facile che abbia voti più alti che si lauree prima che trovi più facilmente l'amore che trovi più facilmente il lavoro che abbia una prima laurea più alta banalmente se quando io vado a un colloquio vado tutto triste e moscio avrò più possibilità di essere assunto rispetto a un colloquio dove sono entusiasta pieno di vita e sorridente se devo studiare e mi flagello col cilicio studierò meglio oppure studierò con più entusiasmo se studio carico di energia cioè è molto semplice approcciare la vita con energia ti può avere più successo quindi l'idea del corso sono molto orgoglioso perché abbiamo messo insieme 20 professori studiosi di ogni tipo e quindi tra un algoritmo che dica se invece di misurare come tu ti senti di chiederti come ti senti io misuro i risultati quindi voti più alti studi più alti primo stipendio eccetera io riesco ad avere una specie di rilevatore un termometro automatico che misurando dei parametri oggettivi mi dica quanto siamo felici e perché è importante questo? perché per cambiare qualche cosa è necessario misurarla se voi volete cambiare qualunque cosa di voi dovete misurarla cioè dovete sapere da dove partite per capire dove arrivate è un programma di programmazione e controllo quindi cosa vuol dire? questo è utilissimo volete dimagrire? il metodo migliore è pesarvi ogni mattina se vi pesate ogni mattina quando state per mangiare l'ennesimo profiterollo vi girevano le balle perché sapete che ogni mattina ha pesato un grammo in più basta già quello volete spendere meno con la benzina? segnate quanto spendete ogni volta che fate benzina quando state per accelerare inutilmente al semaforo ci pensate cioè misurare è l'unico modo per cambiare le cose non possiamo cambiare le cose che non misuriamo quindi se noi troviamo un modo per misurare la felicità esagero ovviamente per questa popolazione misurando la temperatura dell'aria la colorimetria delle pareti e la media degli studenti posso agire quasi immediatamente sullo stato di anima degli studenti e quindi stiamo poi evolvendo il progetto volendo creare una start-up con i migliori studenti che permette di creare un'app che ci porta a misurare la felicità delle aziende e anche delle istituzioni o di un'intera nazione da dati oggettivi per poter cambiare la felicità delle persone avere obiettivi superare ostacoli superare il limite penso che sia una specialità di Mauro Berruto da sempre una specialità fisiologica perché ex allenatore della Nazionale Olimpica di pallavolo maschile autore e storyteller nell'intervista che lo ha riguardato in realtà si è partiti dal concetto di cultura e poi naturalmente unendolo anche al concetto di sport e la cosa che mi è piaciuta molto in cui mi sono molto ritrovato è il fatto che tu abbia rivendicato il fatto di recuperare la parola contaminazione quando si parla di cultura perché è così importante questa parola? Buonasera prima di tutto grazie per l'invito grazie a Sinestesia per questo lavoro volevo aggiungere che io sono lavorato in filosofia però ho un fratello ingegnere perché volevo partecipare che ti permetti di essere accettato meglio di essere incluso come dicevamo ma a parte gli scherzi insomma io sì è curioso perché era appunto la primavera del 2021 eravamo insomma in quel momento pensavamo anche forse di essere più avanti rispetto all'eventuale uscita dalla pandemia neanche ci immaginavamo quello che sarebbe successo quindi il libro è già vecchio poi compratelo ugualmente perché ovviamente ha una finalità benefica ma già oggi credo che alcuni passaggi delle nostre interviste avrebbero un elemento nuovo che non era immaginabile semplicemente ripeto stiamo parlando di neppure 12 mesi fa e in quel momento lì sì a me viene in mente questa cosa che che è quella di rivalutare una parola che è stata ovviamente massacrata negli ultimi negli ultimi due anni delle nostre vite che è la parola contaminazione che però è un principio della vita voglio dire vale sia per la biologia che per diciamo l'approccio culturale la capacità di sapersi esporre a una contaminazione sapersi confrontare con qualcosa che è diverso da te con qualcosa che sei capace magari di fare e che ti spinge un po' a cercare di alzare l'asticella di raggiungere quel limite di cui Walter poco fa parlava credo che questi due anni che hanno cambiato molto il nostro approccio su tante cose in un altro passaggio dell'intervista io cerco disperatamente di demolire un'altra parola che è la parola resilienza noi abbiamo anche un piano nazionale di ripresa e resilienza come se non bastasse e che credo sia veramente un rischio provo a spiegarmi io arrivo dal mondo dello sport quindi per l'amore di Dio ovviamente ritengo la resilienza una virtù ma è una virtù che per eccellenza tenta di far sì che noi umani in generale di fronte a un problema e al superamento del problema possiamo fare testardamente caprabbiamente un lavoro che ci permetta di tornare ciò che eravamo prima questo è un po' diciamo la definizione di resilienza in senso letterale io dico che se noi usciremo quando usciremo da questo periodo così lungo di pandemia quando viva Dio usciremo da questo altro colpo di coda del novecento che è la guerra se saremo stati resilienti e se saremo quindi uguali a quello che eravamo prima avremo due problemi il primo è tutta la devastazione che la pandemia la guerra e così via hanno generato il secondo molto semplicemente di non aver imparato niente da questo da questo lungo periodo quindi io credo fortemente che la contaminazione la capacità di esporsi a ciò che è diverso se vogliamo riassumere in un concetto è un po' la curiosità che credo sia anche un po' il tratto comune di questo libro di questo saggio chiamiamolo come desiderate però mi ha affascinato l'idea che ci fossero 17 interlocutori così diversi fra di loro con competenze così diverse con intelligenze esercitate in maniera diversa con compiti diversi e questa è la ricchezza per esempio di questo libro quindi ecco il fatto che la contaminazione sia una ricchezza diciamo la prima testimonianza è proprio nell'architettura di questo di questo lavoro e in questo sguardo che ovviamente si avvale di punti di vista che sono fra di loro molto molto diversi come abbiamo detto sport e cultura caratterizzano la tua biografia tu hai avuto anche in carica la scuola Holden e hai anche una delega politica per quanto riguarda lo sport sono una brava persona però di specchiata virtù direi ma queste due queste due parole raramente si tende ad associarle quindi molto spesso si fa fatica a trovare un eso specialmente nel dibattito pubblico nell'opinione corrente e così via come si può gettare un ponte come si può iniziare a gettare dei ponti tra queste due parole che in realtà non possono che beneficiare l'una dall'altra e basta metterci un accento perché si parla molto spesso di sport e cultura se quella diventa accentata siamo nel territorio giusto io credo che a tutti gli effetti lo sport sia un'espressione di cultura mi varrebbe da fare mille esempi anche molto concreti cioè i grandi atleti le grandi atlete molto spesso fanno esercitazioni che sono assolutamente simili non so a grandi musicisti o a grandi danzatori o a grandi artisti pittori scultori molto spesso si scopre che poi alla fine la filiera di produzione del gesto finale ha dei parametri molto simili quello che succede è veramente sovrapponibile però naturalmente lo sport è cultura perché fondamentalmente produce due cose una è la performance lo spettacolo e questo vale dal campionato di serie A alla partita dell'oratorio nel senso chiunque scenda in campo come dire in un'azione sportiva vuole produrre questo spettacolo questa performance la seconda grande cosa che lo sport fa è ispirare le persone essere ad esempio dare un contributo di interpretazione della realtà di lettura di quel contesto che Paolo e Walter hanno citato più volte quella agilità che è un concetto di nuovo sportivo ma che è un concetto assolutamente anche intellettuale saper leggere un contesto e sapersi muovere in maniera efficace all'interno di quel contesto lo sport insegna queste cose lo sport ha dei valori che sono diciamo più intangibili quando parliamo di sport come strumento di inclusione appunto quando parliamo di sport come strumento di prevenzione e poi lo sport ha anche dei valori estremamente tangibili misurabili sposo proprio parola per parola quello che Walter diceva quando sosteneva e sostiene giustamente che un pezzo di cultura che noi dobbiamo aggiungere al nostro paese è la misurazione dell'impatto delle cose che facciamo pensate tornate lo citavo prima per ridere ma torno al PNRR adesso arriverà del denaro ci saranno molti progetti che partiranno in tanti settori non misurare l'impatto di quello che succederà è un crimine nel senso e non solo un'occasione persa è proprio un enorme controsenso ecco questa cultura della misurazione certamente lo sport ce l'ha insita io stesso ho allenato in uno sport dove non è neanche possibile pareggiare quindi alla fine di ogni partita sul tabellone c'era scritto se avevo vinto se avevo perso la gara magari per due punti o per 40 non importa ecco questa capacità di agire e di creare dei modelli Paola lo citava che siano replicabili che facciano quel balzo in avanti di cui Paola parlava ma perché poi possano diventare un punto di riferimento e costruire è quello che succede quotidianamente nello sport quindi la somma di queste cose mi fa pensare mi fa credere con certezza e mi fa ogni volta che posso parlare di sport in quel senso lì perché ovviamente noi abbiamo una lettura e un'immagine dello sport qualche volta un po' semplicistica noi mediterranei noi latini in particolare insomma quando sentiamo la parola sport ci parte un riflesso pavloviano che ci fa andare al derby alla partita di calcio invece lo sport è un universo molto complesso non è un mondo perfetto questo ovviamente così come non esistono mondi perfetti nella politica nell'economia nell'arte o in ogni altro contesto quindi credo fortemente che e chiudo dicendo che se io ho imparato il valore la forza la potenza di quella parola da cui siamo partiti che è la parola contaminazione l'ho proprio imparato grazie allo sport la mia fortuna da allenatore è stata di avere a che fare con contesti completamente diversi sia per qualità ho incominciato davvero a allenare in un oratorio di questa città a Borgo San Paolo per la precisione per arrivare alla nazionale italiana e anche in contesti geograficamente molto diversi fra di loro la mia ricchezza è stata non so allenare tre anni in Grecia prima e poi sei anni in Finlandia dopo con uno spread si direbbe di esperienza abbastanza ampio che però mi ha costretto a espormi continuamente delle contaminazioni infatti parlando della tua formazione di allenatore nell'intervista citi anche il tuo libro a capolavori dove parli di questo aneddoto accaduto nell'ospedale psichiatrico di Montichiari che ha cambiato il tuo concetto di allenare si torniamo a uno dei valori dello sport l'episodio si riferisce ormai a qualche anno fa era il 2007 io allenavo a Montichiari in sede a 1 in una squadra importante insomma di grande tradizione in un palazzetto dello sport molto molto bello dove si giocava il campionato di serie A e lì vicino però c'è questa cera perché non esistono più questa struttura che si chiama OPG che è un terribile acronimo che significa ospedale psichiatrico giudiziario insomma il vecchio manicomio criminale per capirci e venne avvicinato da questi operatori sanitari della struttura di Castiglione delle Stiviere dove sorgeva questo OPG proponendomi diciamo di provare a fare dei laboratori di attività sportiva con questi detenuti un gruppo di questi detenuti che erano stati sottoposti a una serie di altri stimoli diciamo i classici laboratori di giornalismo di teatro eccetera con un drop out molto alto con un abbandono e insomma un'efficacia abbastanza limitata quindi mi chieso di provarci con lo sport e con la pallavolo che ha alcune caratteristiche io non voglio parlare del mio sport in maniera troppo autoriferita ma ecco sottolineo sempre che è l'unico sport al mondo dove passare la palla è obbligatorio per regolamento nel senso che è vietato fermarla è vietato toccare due volte di fila quindi insomma andai chiesi di andare a vedere questo posto perché si presupponeva che l'attività fosse da fare dentro a questa struttura non entro nei dettagli ma diciamo è un posto letteralmente infernale non saprei descrivere in altra maniera e quindi mi venne questa idea no? dissi va bene a me piacerebbe provarci anche proprio per le caratteristiche della pallavolo che citavo prima però facciamo così dividiamoci i compiti no? e dissi voi trovate un giudice illuminato che permetta a questo gruppo di ragazzi di fare questa attività fuori io da parte mia essendo il lunedì il giorno di riposo della settimana organizzo in maniera che il palasport di Montichiari possa accogliere questo gruppo di ragazzi allestito come se quel giorno ci fosse la partita di Serie A il che vuol dire proprio tutto illuminato con la rete quella vera con il pallone quello di cuoio non quello di plastica che vola cioè una roba fatta le magliette della prima squadra e così via loro in effetti trovarono un giudice che permise questa cosa io feci la parte veramente complicata del progetto perché chiunque abbia a che fare con il custode di un palazzetto sa che convincerlo ad aprire il lunedì a farlo accendere riscaldare l'inverno insomma fu un'impresa però diciamo partimmo per sei mesi questo gruppo di ragazzi di ragazzi insomma di persone per due ore alla settimana tutti i lunedì veniva a allenarsi con me e questa storia finì in due modi uno hollywoodiano nel senso che l'attività finale fu un torneo con dei ragazzi di una scuola superiore di Montichiari dove vincemmo addirittura un set e uno dei miei ragazzi fece sei ace consecutivi sembrava fuga per la vittoria però la cosa più significativa avvenne qualche settimana dopo e torno sul tema della misurazione quando gli stessi responsabili della struttura sanitaria vennero da me con un report con dei fogli di Excel e su quei fogli c'era scritto in maniera oggettiva che quel gruppo di ragazzi aveva rispetto al giorno 1 diciamo dell'inizio del progetto diminuito del 50% le necessità farmacologiche ovviamente fondamentalmente psicofarmaci a cui quei ragazzi erano sottoposti e lì si è cambiato il mio modo di interpretare sia lo sport che il mio il mio esercitare diciamo il gesto dell'allenare perché per 5 minuti il mio super ego non era più contenuto neanche diceva guarda che allenatore sono e sono riuscito anche a fare invece poi fortunatamente dal sesto minuto scoprì che io non c'entravo niente o meglio io ero parte della sceneggiatura e parte della scenografia addirittura cioè la differenza l'aveva fatta la bellezza del luogo specificatamente rispetto all'obiettivo è come se a voi piacesse cantare sotto la doccia un giorno vi invitano a farlo a Reggio a Torino quello che circondava quei ragazzi in quelle due ore era un contesto di eccellenza sportiva tutto era pensato come se e io ero parte di quell'ecosistema in quanto allenatore di serie 1 ai tempi allenava ancora la nazionale finlandese che dedicava il suo tempo a quel tipo di attività e questo sì mi ha fatto ragionare e pensare molto su come anche semplicemente non solo il modo in cui ci comportiamo ma anche l'impatto che quello che facciamo ha sulla nostra salute sul nostro stato di benessere è determinato dalla bellezza che ci circonda che poi se vuoi è un po' il principio che è molto che capita quando andiamo a Lugano e non ci viene in mente di buttare una cartaccia per terra oppure e così chiudo su un tema sportivo non so in alcuni stadi nel nostro paese ancora oggi esiste per i tifosi avversari la gabbia cioè il luogo dove i tifosi avversari vengono messi si chiama la gabbia e se tu mi metti in una gabbia mi stai implicitamente autorizzando a comportarmi da animale ecco l'idea di lavorare sul contesto cioè sul determinare quelle condizioni di eccellenza credo che sia la cosa più importante che un allenatore sa fare non sa fare debba fare riconoscere un talento certo ma poi il processo di esplosione di quel talento passa attraverso le condizioni che tu generi intorno a lui o intorno a lei se sono condizioni di eccellenza le probabilità che quel talento esploda aumentano vertiginosamente in una delle domande che ti fa Riccardo si ritorna poi sempre sul tema del limite giustamente tu dici che per la vostra azienda superare i limiti vuol dire rinnovare esattamente come un atleta che supera un ostacolo si pone degli obiettivi e così via però come si può fare innovazione nello sport beh guarda c'è un impatto anche questo molto misurabile proprio in termini di tecnologia di materiali molto spesso lo sport diventa un mondo in cui si testano delle cose che poi un po' come la formula 1 che uno dice cosa serve investire tutto questo denaro in queste gare di formula poi magari grazie a quel tipo di ricerca e di studio viene messo a punto l'airbag della 500 che guidiamo tutti i giorni in città ecco lo sport ha certamente un impatto anche dal punto di vista della ricerca della tecnologia e se posso però so che meno diciamo è più romantico il tema e la visione però innovare nel mondo dello sport oggi credo che passi attraverso una strada maestra che ridefinisce un po' il concetto stesso di sport io amo definire lo sport in questa accezione cultura del movimento e interpretare la cultura del movimento come un vero e proprio farmaco non è un'opinione mia è un'opinione misurata dalla letteratura e dalla ricerca scientifica non ci sono dubbi che oltre al valore intangibile che citavo per esempio la prevenzione la cultura del movimento sia uno strumento privilegiato di controllo di alcune patologie che definirei pandemiche come le malattie cardiovascolari come il diabete come la depressione come l'obesità è proprio certo è misurato che il famoso euro investito in sport ne restituisce 3, 4, 5 a seconda delle patologie in termini di risparmio diretto generato dal servizio sanitario nazionale innovare io credo che nel mondo dello sport oggi è uno sport che vive un momento schizofrenico cioè dopo l'estate 2021 e successi senza soluzioni di continuità che ci hanno fatto pensare che ce l'avessimo fatta ancora una volta che noi italiani siamo riusciti anche in questa occasione a superare il problema e invece contestualmente c'è uno sport soprattutto quello di base che è stremato dalla pandemia che è in una crisi profondissima e quindi credo che sia arrivato il momento anche di cambiare paradigma all'interno della costruzione del mondo dello sport del modello che ha governato diciamo lo sport nel nostro paese da quando esiste la Repubblica e immaginare questa estensione del valore dello sport anche in maniera diretta mi verrebbe proprio da dire sulla difesa di un diritto costituzionale alla salute perché noi viviamo grazie al cielo e vogliamo che sia così e vogliamo difendere questo diritto in un paese che garantisce i servizi della salute gratuiti universali però viviamo anche una curva demografica che ci ricorda che essendo un paese che invecchia che è un'ottima notizia ma ovviamente significa avere maggiori richieste di servizi della salute e minore possibilità di sostenerle da un punto di vista economico e con un grande cambio di paradigma è immaginare lo sport come uno strumento di difesa di quel diritto e questo insomma ripeto non è solo un'opinione ma è una diciamo una tesi convalidata e misurata dalla letteratura scientifica io direi se siete d'accordo che i tempi sono maturi per porre a ciascuno di voi la domanda delle domande cioè la domanda che ricorre alla fine di ogni intervista quindi vorrei che adesso ciascuno di voi raccontasse cosa immagina che sarà il futuro nei prossimi dieci anni inizierei da Paola solo di darti un macigno così ma innanzitutto beh questa è la domanda alle domande alla fine dell'intervista che però è stata fatta un anno fa e quindi la risposta delle risposte non necessariamente è la stessa ovviamente la mia risposta professionale che io mi occupo di adattamento al cambiamento climatico questa è una grande sfida per l'umanità e indubbiamente avere un impatto in questo settore è un pochettino il percorso attraverso cui credo che la terra il genere umano in questa logica di sostenibilità del pianeta debba passare per cui dotarsi di strumenti che ci consentano di superare la prossima grande ondata che sarà quella che ci impone il pianeta è vero che poi tra rispetto a un anno fa in questa fase post pandemica post che sia post pandemica sono successe altre cose per cui ci sono le prospettive sono diverse è un mondo che passa dall'essere completamente esplorabile a un mondo che si sta di nuovo un po' polarizzando quindi è più difficile rispondere in maniera univoca oggi onestamente non ho una risposta a questa domanda io mi occupo e non voglio uscire dal mio solco di ambiente di clima di adattamento al cambiamento climatico insomma la mia grande sfida è quella di avere un ruolo un piccolo ruolo in questo settore nel quale sono cresciuto ho studiato mi sono specializzata e quindi ho creato la mia azienda per cui credo di poter dare una piccola risposta ad un grande problema e credo che il mondo si è tenuto a passare da lì c'è sempre un bel concetto che mi ricordo che mi torna in mente da genitrice che è quello del patto generazionale abbiamo il dovere di lasciare nelle mani delle prossime generazioni un mondo che non sia quantomeno peggiore di quello che abbiamo trovato per cui magari anche migliore per cui la nostra grande sfida è quello che dobbiamo fare in questi prossimi dieci anni ce lo siamo anche detti l'agenda 2030 quello che ci siamo scritti ci siamo voluti ricordare come anche a livello regolatorio è quello di consegnare nelle mani dei nostri figli un mondo non peggiore di quello che abbiamo trovato magari migliore con delle soluzioni a certi problemi e quindi questo è l'ambito in cui mi sento di poter mettere i miei 200 dopodiché effettivamente il contesto mondiale geopolitico è cambiato e non è così semplice dare questa risposta oggi non lo era un anno fa forse lo è ancora un po' meno oggi allora io sono un ottimista pazzesco e quindi io credo che il futuro sia un posto meraviglioso perché noi siamo vittime di due bias di due tunnel cognitivi il primo e pensiamo che essere ottimisti sia un modo di essere invece di essere ottimisti è una scelta uno sceglie di essere ottimista o no come secondo me si sceglie di essere felici il secondo grande bias il secondo grande tunnel cognitivo è che noi pensiamo che il futuro è qualche cosa che accade o che accada in realtà il futuro è quello che noi costruiamo certo poi sono realista è ovvio che dopo quattro ondate e una guerra anche un ottimista come me si è un po' rotto le valle lo confesso però il grande errore che noi facciamo è che noi pensiamo che la vita soprattutto quando guardiamo la vita degli altri le persone che hanno successo quando guardiamo dall'esterno pensiamo che la vita sia una retta verso l'alto una retta verticale più o meno inclinata che va da verso l'alto in realtà la vita non è così la vita è molto più semplice la vita se la guardate fa così da ingegnere una sinusoide va su e va giù il segreto della felicità qual è? ma innanzitutto dal valore ai picchi perché noi uomini e donne abbiamo un difetto grandissimo noi diamo poco valore ai picchi noi diamo per scontato i picchi ci pensate a quante cose diamo per scontate noi diamo per scontato di star bene diamo per scontato di avere un lavoro diamo per scontato di mangiare tutti i giorni di camminare pensate che scemo io fino a due anni fa pensavo di poter andare a mangiare la pizza o al ristorante o al supermercato in qualunque momento volessi non c'è niente di scontato e imparare che siamo molto più fortunati di quello che crediamo che può sembrare banale ma la vita è semplice la vita va su e va giù per tutti quindi dal valore ai picchi che sovente non lo facciamo e far sì che le valli siano le più basse possibili cioè più schiacciate quindi la vita felice non è così la vita felice è così capendo che va un po' su e va un po' giù e se ci pensate guardando diacronicamente l'evoluzione dell'uomo questa retta questa sinusoide non è orizzontale ma è inclinata va su e va giù verso l'alto perché comunque noi oggettivamente viviamo meglio di 50 anni fa 50 anni fa si viveva meglio di 100 anni fa e meglio di 200 anni fa o bene o male il nostro modo di vivere è sempre migliorato con dei picchi e delle valli c'è stata la prima guerra mondiale un po' di ripresa la seconda guerra mondiale poi c'è stata una grande ripresa il boom poi c'è stata le torri gemelle poi si è un po' risaliti il 2008 va avanti su e giù però quando guardiamo nella sua visione completa il futuro è sempre andato meglio Epiteto diceva e mi spiace citare per par condicio da ingegnere che noi possiamo controllare solo due cose i nostri pensieri e le nostre azioni e quindi ogni mattina quando ci alziamo pensiamo ad un futuro migliore perché pensare ad un futuro migliore è la via giusta per costruire un futuro migliore ma allora ci sono due citazioni che mi vengono in mente su questo tema una che dice è molto difficile fare previsioni soprattutto sul futuro il mondo cambia molto velocemente lo sappiamo nel nostro mondo nel mondo della tecnologia siamo abituati a un mondo che cambia sotto i nostri occhi quindi siamo veramente siamo in difficoltà quando dobbiamo fare delle previsioni nell'ambito nell'ambito tecnologico e l'altra citazione che invece mi viene in mente un po' più seria è che dice il miglior modo di prevedere il futuro è quello di costruirlo e questo secondo me è veramente il punto cruciale allora secondo me dobbiamo fare un po' tutti la nostra parte e non è una cosa retorica io credo che in questo momento nel mondo ci sia molta più consapevolezza rispetto al passato del fatto che il futuro è nelle nostre mani e che ci sono tutta una serie di cose macro come il cambiamento climatico su cui se non interveniamo e se non cominciamo a fare davvero delle cose concrete ci troveremo ad avere dei problemi veramente molto molto gravi ma contemporaneamente sto vedendo che nelle nuove generazioni c'è un'attenzione diversa che ci sono dei movimenti culturali che ci sono dei movimenti che partono veramente dal basso e che vanno nella direzione davvero di spingere questo cambiamento quindi questo nonostante appunto la situazione che dicevamo prima che ci fa che ci appesantisce secondo me siamo tornati indietro di anni con questa guerra il mondo sembra tutto più grigio sembra tutto più difficile però nonostante questo il fatto di vedere questa tendenza mi fa essere ottimista mi fa pensare a un futuro che sia migliore perché veramente come diceva Walter a volte non ce ne rendiamo conto ma è sempre stato così il futuro è sempre andato verso un progresso e non c'è motivo di pensare che questo colpo di coda del novecento sia insomma solo un colpo di coda e speriamo che ce lo togliamo di togliercelo veramente prima possibile è difficile adesso parlare per te tu hai tante cose da dire in più di me allora secondo me una frase che dico spesso è soprattutto mi ricordo il futuro cioè io sono un ottimista natura ne abbiamo anche tanto parlato con Walter quando è venuto in sinestesia io vorrei che il nostro futuro fosse fatto dai nostri ragazzi insegnandogli il bello facendogli vivere della bellezza perché attraverso la bellezza le cose non possono che andare meglio quindi la positività i ragazzi vivono anche in un periodo dove tutte queste cose sono difficili da vedere e lo sforzo che noi dovremmo fare in generale per avere un futuro migliore è proprio lavorare sui ragazzi e lavorare sulle nuove generazioni cercando di fargli vedere il bello delle cose il bello noi siamo pieni di bellezza ne parlava anche Brachetti nell'intervista noi cresciamo in luoghi tendenzialmente molto belli pieni di monumenti di cultura di abbiamo la fortuna di essere in Italia che è un posto bello io spero che questo abbia un'influenza positiva quindi il futuro sarà bello quanto noi lo vorremmo far diventare bello con tutto quello che tutti hanno detto su questo palco e nelle interviste questo emerge io credo che occorra intanto avere uno sguardo sul futuro e anche un po' sul presente perché altrimenti manca sempre un passaggio e io credo che il presente e quindi il futuro di conseguenza ci racconti di un mondo che ha disintegrato polverizzato un principio di costruzione della conoscenza basato sull'essere specialisti di una cosa quel mondo lì non esiste più ed è il mondo in cui mi sono formato io nel senso le persone della mia età della mia generazione sono cresciute con un percorso che prevedeva il fatto che tu ti preparassi anche dal punto di vista appunto accademico a essere specialista di una cosa e poi con quella cosa lì avresti più o meno gestito la tua vita e la tua carriera professionale quel mondo lì non esiste più ed è una buona notizia perché io credo che dal presente e dal futuro noi dobbiamo aspettarci un esercizio di intelligenza collettiva ovvero team proprio perché nessun esperto da solo esperto di una cosa è in grado di risolvere un problema noi dobbiamo lavorare affinché qualunque problema qualunque situazione venga gestita dall'intelligenza di team capaci di essere composti da specialisti di specialità diverse questo vale dal cambiamento climatico non so alla super league di calcio non credo di fare solo un po' di parte è vero però noi abbiamo assistito qualche mese fa a una roba veramente strana cioè un progetto super studiato super analizzato da esperti di finanza di economia eccetera che avevano identificato un modello che ovviamente era molto solido che avrebbe dovuto funzionare perfettamente che è naufragato in 48 ore probabilmente perché a quel tavolo non era seduto non so un sociologo un antropologo cioè una persona capace di leggere l'impatto che quel modello matematico fisico scusate economico eccetera avrebbe generato nella percezione in quel caso dei tifosi lasciamo perdere noi italiani che ci siamo così divertiti con opinioni intellettuali in Inghilterra dove il calcio ha un valore diciamo importante sui tifosi i tifosi sono scesi in strada e hanno impedito che quella cosa succedesse ecco mi aspetto un mondo costruito su modelli di pensiero che siano capaci di nutrirsi di competenze diverse e che insieme affrontano e risolvono un problema purtroppo il presente ed ecco perché ritorno al colpo di coda del novecento ci mette di fronte a una situazione in cui nei centri di potere siedono ancora oggi uomini e torniamo a prima e uomini che si sono formati in un mondo che non esiste più che si sono formati come me scrivendo la tesi sulla macchina per scrivere ecco questo è il rischio noi dobbiamo credo fare in modo che questo passaggio che divide diciamo la generazione dei ragazzi e delle ragazze che invece si è formato in un mondo in cui la rivoluzione digitale aveva già avuto il suo diciamo una sua accelerazione e dobbiamo fare meno danni possibile apprezzo e condivido con Paolo l'idea della capacità se riusciremo di donare un modo diciamo almeno non peggiore per rimanere realisti però noi abbiamo questo grande punto interrogativo in questo momento da gestire noi siamo cioè chi detiene il potere oggi chi principalmente è ancora seduto nei centri di potere oggi è espressione di un mondo che oggi non esiste più e quindi può essere molto pericoloso e non è un caso che a fronte di tutti questi processi di innovazione che noi abbiamo abbiamo raccontato e che sono evidenze di chiunque abbia un minimo di pensiero logico leggiamo non so la cronaca di un matto che manda ragazzi a scavare trince nella zona di Cernobil creando un numero enorme di persone che oggi hanno un anno di aspettativa di vita è incredibile pensare che possa succedere questa cosa è successo meno di un mese fa ecco questo passaggio è il rischio questa transizione è il pericolo in questo momento noi dobbiamo essere capaci di portare la macchina senza farla uscire di strada poi anch'io credo che il futuro sia da leggere con quell'ottimismo che mi sembra abbiamo condiviso tutti e che tutti i 17 testimoni di questo lavoro condividono perché superata questa fase di passaggio non ho dubbi insomma che il mondo sarà un posto migliore beh in conclusione vi consiglio di nutrirvi di questo ottimismo comprando il libro che troverete all'uscita quindi 10 anni di futuro interviste dalla luna ringrazio i nostri ospiti Francesco Ronchi Riccardo Lecalchi Mauro Berruto Walter Rolfo e Paolo Allamano ringrazio voi di essere venuti al circo di lettori 10 anni di futuro Fabrizio posso ancora dire una cosa scusate volevo ringraziare il nostro team di sinestesia perché noi siamo davvero fortunati a poter lavorare con voi e un grazie speciale ad Andrea che ha avuto questa idea e che ce l'ha fatta veramente mettere in pratica e a tutto il team che ha lavorato a questo libro e grazie a voi che avete partecipato a questo progetto grazie davvero grazie a tutti